Il pollo italiano è sano e sicuro, lo hanno ribadito stamane allevatori, operatori del settore, istituzioni addette ai controlli, presentando l'attività del consorzio di filiera avicola piemontese. Mangiate più carni bianche e hanno meno colesterolo? Limitate le carni bianche, sono piene di antibiotici. Sul cibo i messaggi contradditori si sprecano, ma la Camera di Comercio di Cuneo e Confagricoltura hanno invitato il consorzio di filiera per così dire a metterci la faccia, a difendere un comparto importante. 95 gli allevamenti consorziati in Piemonte, 700 gli addetti della filiera, un fatturato di 130 milioni che ruota su un prodotto, si è detto, di assoluta qualità. Ci teniamo proprio a dimostrare che il settore avicolo e in particolar modo quello piemontese è un settore all'avaguardia che rispetta tutte le leggi e che opera nel pieno rispetto del benessere animale. Il pollo italiano è tra i più sicuri al mondo perché la vigilanza è altissima, ha confermato la direttrice dell'Istituto Zoo Profilattico di Piemonte, Liguria e Val d'Aosta. Il ricorso ai farmaci ha detto è inferiore alla media europea o di altre aree del mondo. Visto che le malattie trasmesse dagli alimenti sono in crescita per tanti motivi essenzialmente legati alla globalizzazione dell'alimento, ecco che garantire questo diritto di salute e di sicurezza è fondamentale. Meno farmaci causa del pericoloso fenomeno dell'antibiotico resistenza umana anche grazie alla genetica che sta selezionando e allevando razze sempre più forti e sane. Riducendo la mortalità animale si riduce anche la necessità di trattamenti a beneficio della salute umana e dell'ambiente.